Zappevajte braccio Zappevajte braccio Zappevajte braccio Ja sam Dušan Marjanović član Srpske radikale stanke kandidata odvodnika u opštini Krupa Poljoprivrednik iz sela Panine pačemo malo na temu o poljoprivredni na tu temu mogli pričati Il problema di srbisca è l'infrastruttura e l'infrastruttura e l'infrastruttura, soprattutto in la nostra europea. L'infrastruttura è nulla, cioè che c'è l'infrastruttura che non si può perdere, non si può perdere, non si può perdere. L'infrastruttura e l'infrastruttura è katastrofalna. À se c'è un'estitore, l'infrastruttura, che đang calci per i postoji a mani, non si può perdere, che non si può perdere, la gisle della non si può perdere, non si può perdere, Isto stanno. Sledeci, znači, otkup poligodini proizvoda. Problem, najveći, te proizvode koji se proizvedu ne mogu se dovesti do otkupni mesta bog ti puteva. Otkupna cena, isto, otkupna cena se nikad ne zna do kraja otkupa. Tako je bilo 2019. godine u našoj opštini. Otkupna cena maline kupine se nije znala, čak neki ljudi danas dan ne znaju tu cenu. Srpska radikalna stranka, ako bude učestva u vlasti, borit će se svim silama. Znači, da se putna infrastruktura dotera u neki normalan nivou. Niskona aponska mreža da ti ljudi koji žive po selima imaju normalnu električnu energiju. Zapevajte, braćo, hajde šta ste stali, pobeda je naša, bravo radikali. Zapevajte, braćo, hajde šta ste stali, pobeda je naša, bravo radikali. Hvala što ste stali. hvala što ste stali. tako što ste stali.